Cari amici, cari telespettatori, benvenuti al Tesoro di Davide. La trasmissione che ci consente di leggere il libro dei Salmi e approfondirne i contenuti attraverso delle meditazioni, anche attraverso contributi che ci vengono da altri predicatori che oggi probabilmente non sono nemmeno più nel numero dei viventi, ma che hanno lasciato una traccia con i loro commenti e con le loro riflessioni. E come sempre ci avvaliamo dell'aiuto e della collaborazione di Federica con le ricerche che ci confortano in questo percorso di meditazione. Andremo in questa trasmissione a leggere e anche a meditare il Salmo 27, uno dei Salmi più cari alla devozione dei cristiani, dei credenti, ma penso anche del popolo di Israele ancora oggi. Soltanto proprio per gustarlo, appropriarci fino in fondo dei contenuti e delle benedizioni che la lettura e la meditazione di questo Salmo ci offre, andremo ad esaminare soltanto i primi sette versetti, in modo che in una successiva trasmissione avremo la possibilità di leggere fino alla conclusione del Salmo, che è composto da 14 versetti. Quindi io direi a Federica, se possiamo già addentrarci nella lettura, e immediatamente molti soltanto al pronunciare le prime parole, i primi versetti, riconosceranno questo Salmo tanto amato, tanto apprezzato. Possiamo proseguire, Federica, con la nostra lettura? Di Davide, l'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per dimorar la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Quando anche un esercito si accampasse contro a me, il mio cuore non avrebbe paura. Quando anche la guerra si levasse contro a me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per mirare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo Tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, m'occulterà nel luogo più segreto del suo padiglione, mi leverà in alto sopra una roccia. Già fin d'ora il mio capo si eleva sui miei nemici che mi attorniano. Io offrirò nel suo padiglione sacrifici con giubilo, io canterò e salmeggerò all'Eterno. O Eterno, ascolta la mia voce, io ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia, io cerco la tua faccia, O Eterno. Non mi nascondere il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servitore. Tu sei stato il mio aiuto, non mi lasciare, non mi abbandonare, o Dio della mia salvezza. Quando mio padre e mia madre m'avessero abbandonato, pure l'Eterno mi accoglierà. O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero a diritto, a cagione dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà dell'Eterno sulla terra dei viventi. Spera nell'Eterno, sii forte, il tuo cuore si rinfranchì, sii, spera nell'Eterno. Solo a leggere questi versetti la fede viene immediatamente confortata, viene immediatamente edificata. E' il salmo che probabilmente aiuta il credente a superare il timore, a superare la paura, a vincere quei momenti di sconforto che vorrebbero far precipitare il credente nella cupa disperazione della paura o anche del timore. Non si sa con precisione quando è stato scritto questo salmo dal re Davide, sì, perché l'autore è Davide, come abbiamo subito in premessa letto di Davide. La vita di Davide è stata segnata da diversi momenti e da diverse esperienze contenute in alcuni libri storici che è possibile leggere nella Bibbia. Per esempio, il primo libro di Samuele, il secondo libro di Samuele, anche il libro dei Re e libri delle cronache sono considerati i testi storici. E, naturalmente, il racconto, la storia del re Davide è consigliabile a tutti coloro che non vogliono farsi semplicemente un po' di cultura biblica, ma conoscere la vita di un uomo profondamente dedicato, che ha dedicato il suo cuore e consacrato la sua vita al Signore con tutte le vicende fatte di luci ed ombre su questa figura, su questo personaggio, ma già la lettura dei Salmi ci aiuta a comprendere quando viva, fervida e profonda fosse la sua fede. Alcuni commentatori ritengono che il Salmo tratta appunto alcuni argomenti che ci aiuta in un modo o nell'altro a risalire forse ad alcune fasi della sua vita. Innanzitutto, lontano dalla casa dell'Eterno, quindi probabilmente nel periodo del suo esilio, lontano dalla sua famiglia, quindi il richiamo al padre e la madre, circondato da nemici, quindi la fuga dal re Saul che lo inseguiva cercando di farlo morire e probabilmente probabilmente il momento in cui è stato tradito da Doeg l'Idumeo. Ora, non abbiamo il tempo per approfondire la storia di questo Edomita che si trovò praticamente nel luogo dove era conservata l'arca del Signore e lì nella circostanza in cui anche Davide andò lì e si presentò al sacerdote il sacerdote lui tradì appunto il re Davide portando e riferendo al Saul che lo aveva visto proprio nella casa del Signore e questo provocò ancora la morte del sacerdote Abimelech insieme a tutti quanti i suoi figli 35 persone furono assassinate dal re Saul fu proprio Doeg Ledomita a uccidere fisicamente queste persone allora io direi Federica data anche questa lunga introduzione di andare subito alla lettura del primo versetto e così poi dopo approfondiamo le nostre riflessioni di Davide l'Eterno è la mia luce e la mia salvezza di chi temerò l'Eterno è il baluardo della mia vita di chi avrò paura e quindi potremmo eventualmente questo versetto citarlo a memoria forse recitarlo a memoria in diversi momenti della nostra vita forse già la sera nel momento in cui ci apprestiamo a chiudere i nostri occhi dovremmo dire l'Eterno è la mia luce l'Eterno è la mia salvezza l'Eterno è il baluardo la fortezza della mia vita e io di chi avrò paura di chi temerò quando siamo preoccupati per le sorti future della nostra vita quando ci sembra che il futuro non ci sorrida affatto anzi provochi una serie di incertezze una serie di preoccupazioni quando forse il timore della malattia il timore di perdere la nostra posizione economica il nostro lavoro sono preoccupazioni che assalgono la vita dell'uomo e che generano forti stati di ansia se non in alcune casi anche patologie più più gravi e non sono i tranquillanti non sono come dire le sedute terapeutiche da un psicanalista che possono rassicurare il cuore dell'uomo no la nostra sicurezza viene e giunge appunto dall'eterno come dice il re Davide su questo tema Federica abbiamo qualche contributo tra le nostre ricerche sì c'è una bellissima meditazione sacramentale che risale al 1843 Giovanni ci dice che in Cristo era la vita e la vita era la luce degli uomini aggiunge però che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno ricevuta c'è una grande differenza tra la luce e l'occhio che la vede un cieco può conoscere bene come risplende il sole anche se a lui non dà luce dire quindi che Dio è luce è una cosa ma è tutt'altra cosa poter dire l'eterno è la mia luce l'eterno deve essere la luce che ci mostra la via da seguire che ci aiuta a percorrere che ci fa riconoscere le tenebre del peccato e che ci lascia vedere i peccati nascosti del nostro cuore in questo senso quella luce è anche la nostra salvezza Dio ha promesso di guidarci non solo di mostrarci il peccato ma di salvarci da esso non solo di farci vedere il suo odio per il peccato e la maledizione che lo accompagna ma anche di attirarci al suo amore togliendo quella maledizione se l'eterno illumina la via della salvezza chi o che cosa dobbiamo temere la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio siamo deboli molto deboli ma la sua potenza si dimostra perfetta nella nostra debolezza se l'eterno stesso ha promesso di essere il baluardo della nostra vita di chi dobbiamo avere paura Sì nel momento che citavi Federica questi testi sembrava di vivere il momento della predicazione di questi predicatori di altri tempi che con questa fervente fede riuscivano ad esprimere e a comunicare la possibilità di avere fiducia e sicurezza in Dio soprattutto quando ci sentiamo circondati dai nemici soprattutto quando ci sembra di essere in una tempesta e le onde di questo mare sono così più grandi della capacità della nostra barca di reggerla di reggerle reggere la forza di queste onde oppure l'impeto di questo vento che soffia contro di noi in questo senso vorremmo leggere Federica il versetto 2 che appunto ci parla di come i nemici sono attorniati è vero attorniano appunto in questo caso il credente o il re Davide quando i malvaggi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorare la mia carne essi stesso hanno vacillato e sono caduti quindi quando i malvaggi i malvaggi mi hanno attorniato e hanno cercato di divorarmi io penso che Davide in questa espressione voglia anche in qualche maniera metaforicamente ricondursi a quando giovane pastorello dovette affrontare proprio delle fiere delle bestie feroci ricordiamo l'orso ha dovuto combattere contro un orso per strappargli è vero uno degli agnellini altra occasione il leone quindi questi nemici che mi volevano divorare però Davide sta parlando di altri nemici sta parlando di coloro che attentavano alla sua vita e che desideravano vederlo morto suo suocero il re Saul era il capo di questi nemici e attorno a lui ve ne erano tanti che cercavano continuamente braccavano Davide in fuga cercando di catturarlo per farlo morire quale altro contributo abbiamo Federica su questo tema su come Dio ci libera dai nostri nemici c'è un prezioso commento di Richard Sibes di solito quando Dio libera i suoi figli sconcerta i suoi nemici fa due cose alla volta perché i suoi figli sono addolorati sia da nemici interni che da nemici esterni ed è raro che si comporti altrimenti lo farà soprattutto nel giorno del giudizio quando Satana e tutti coloro che sono guidati dal suo spirito cioè tutta la sua chiesa malefica saranno rimandati al luogo dove appartengono mentre la chiesa di Dio sarà per sempre libera da qualunque genere di nemici quando la chiesa è più libera i suoi nemici sono più che mai prossimi alla distruzione sono come i due piatti della bilancia quando uno sale l'altro scende quando la chiesa è innalzata i nemici scendono in basso sì su questo tema continua naturalmente la 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 descrizione della battaglia personale che conduce il re Davide e successivamente si sente un po' come interviene il linguaggio militare interviene il gergo militarisco perché i versetti successivi parlano un po' della guerra parlano un po' dell'esercito e Davide era anche un uomo di guerra non dimentichiamo che probabilmente in quel periodo della sua vita capeggiava un gruppo di due trecento persone uomini affezionati a lui uomini disposti a morire per il loro capo in quel caso non stiamo parlando ancora del re ma che avevano imparato ad amarlo avevano imparato a rispettarlo soprattutto riconoscevano che in quell'uomo oltre ad essere delle capacità di guidare è vero un piccolo plotone come lo possiamo definire un trappello di guerrieri una figura sicuramente autorevole carismatica un uomo capace di affrontare anche le battaglie senza tirarsi indietro ma anticipando probabilmente i suoi stessi soldati ma riconoscevano in lui questa natura spirituale il cantore di Israele riconoscevano l'uomo che amava lodare Dio l'uomo che aveva scelto di porre Dio al primo posto nella sua vita e questa è stata la forza di Davide l'autorità di Davide non era semplicemente il suo carisma la capacità di essere di guidare di essere un leader di guidare i suoi ma questa unzione che gli veniva riconosciuta da Dio dall'alto quindi Federica andiamo a leggere successivamente il verso che segue quando anche un esercito si accampasse contro a me il mio cuore non avrebbe paura quando anche la guerra si levasse contro a me anche allora sarei fiducioso quindi quando anche la guerra si accampasse contro di me un esercito cioè la guerra si scatenasse contro di me e un esercito si accampasse contro di me anche allora io continuerò ad essere fiducioso fiducioso che Dio non ci abbandona in mezzo alla guerra Dio non ci lascia in mano dei nostri nemici Dio è sicuramente pronto a ascoltare il nostro grido di aiuto nel momento in cui noi gridiamo soccorrici Signore o Eterno vieni in aiuto al tuo servo vieni in aiuto ai tuoi figlioli qual è il successivo contributo Federica che abbiamo su questo commento su questo testo John Schiffel ci dà una rappresentazione delle esperienze che sono il vero tesoro del cristiano il favorito si fa più grande in virtù dei favori dei doni dei gioielli e delle cariche che gli dà il principe il cristiano invece si fa ricco di esperienze che porta come braccialetti e tiene come gioielli preziosi ne chiama una Ebenezer fin qui l'Eterno ci ha soccorsi un'altra Neftali ho lottato con Dio e ho vinto un'altra Gersom ho soggiornato in terra straniera un'altra Giuseppe l'Eterno ma giunga altro e un'altra Peniel e quindi mi salverà scusate ho veduto il Dio a faccia a faccia Dio mi ha salvato dal leone e quindi mi salverà dall'orso mi ha salvato dal leone e dall'orso e quindi mi salverà dal filisteo mi ha salvato dal filisteo e quindi mi salverà da Saul mi ha salvato da Saul e quindi mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste bellissima questa espressione che in qualche maniera forse in maniera scalare racconta le vicissitudini della sua vita i momenti di afflizione i momenti di travaglio però il versetto successivo lo amo in modo particolare e credo che è amato da tutti quanti i credenti perché forse almeno una volta ma io forse l'avrò citato cento volte forse non saprei rischio di esagerare se dico mille ma nella mia preghiera personale Federica è uno dei versetti che più sono presenti nella mia mente una cosa ho chiesto all'eterno e quella io ricerco che io dimori nella sua casa tutti i giorni della mia vita è stupendo quante volte il credente ha pregato in questa maniera signore se io dovessi soltanto per un attimo abbandonare la tua grazia se io dovessi signore rivoltarmi dal tuo amore e andare in una direzione opposta a quella tua ti prego in questo momento raccoglimi nella tua gloria eterna penso che molti dei nostri affezionati fratelli e anche telespettatori possano condividere questa preghiera possano condividere questa affermazione una cosa io ho chiesto e continuo a chiedere al Signore e continuiamo a chiedere questa preghiera che io dimori questa cosa anche io ricerco che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita affinché non possa essere considerato un infedele affinché non possa essere considerato un indifferente affinché non possa essere considerato un rinnegato affinché per l'amore che il Padre ha manifestato nella mia vita io possa ricambiargli con la mia fedeltà della in tutti i giorni della mia vita terrena immagino Federica che ci saranno stati diversi contributi su questo testo su questo salmo però quale quello che tu ti ha colpito di più o hai preferito in qualche maniera citarci ce n'è uno di John Day che racconta le esperienze degli uomini santi di Dio nel rapporto con la casa del Signore senza dubbio con la parola dimorare il salmista intende una frequenza costante al Tempio con sollecitudine e non con qualche visita saltuaria fu così che vi dimorò Anna la figlia di Fanuel che per 84 anni non si partì mai dal Tempio non vuol dire che vi rimase senza mai uscirne nemmeno per un'ora ma che lo frequentava spesso spiegano Nicola di Lira e Bede il Venerabile lo stesso Luca parlando dei discepoli che avevano visto il Salvatore a scendere in cielo disse tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza ed erano del continuo nel Tempio benedicendo il Dio Agostino ci riferisce che sua madre a suo tempo dimorava nella casa di Dio che frequentava assiduamente due volte al giorno e lo faceva disse Agostino parlando a Dio per udire le tue parole e farti udire le sue orazioni in un altro brano Agostino parla dei cristiani come formiche di Dio scrive infatti osserva la fornica di Dio si alza al mattino corre alla chiesa di Dio prega ascolta la lettura medita su ciò che ha udito ripone nel suo intimo il grano che ha raccolto nell'aia sì la storia di Agostino di Pona Sant'Agostino è stata fortemente segnata dalla testimonianza e forse sicuramente dalla fervida preghiera di sua mamma Monica che era una donna pia una donna zelante una donna fervente che anche quando vide che le sorti di questo suo figlio inseguivano più i piaceri della vita e i divertimenti è un modello legato alla figura paterna piuttosto che a quella materna soffriva molto e pregava ecco forse spiegato anche questa costante presenza di Monica al Cospetto dell'Eterno però poi abbiamo visto che alla fine queste preghiere hanno prevalso e hanno dato hanno prodotto questo risultato uno dei padri della chiesa Agostino di Pona Sant'Agostino come meglio conosciuto che ha lasciato una traccia nella storia del cristianesimo dei suoi tempi andiamo Federica alla lettura del verso successivo poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità mi occulterà nel luogo più segreto del suo padiglione mi leverà in alto sopra una roccia ecco quindi Davide espone il concetto del rifugio di Dio il rifugio di Dio e il rifugio del credente in Dio noi possiamo rifugiarci perché egli dice mi occulterà mi nasconderà e ci sono diversi riferimenti uno di questi al luogo santo al luogo santissimo sì perché il luogo santissimo era uno dei luoghi dove le persone non potevano accedervi vi era un divieto assoluto pena la morte di entrare in quel luogo bene Davide dice il Signore mi nasconderà in quel in quel riparo in quel rifugio e se abbiamo Federica qualche altro approfondimento per comprendere ancora meglio questo concetto del rifugio in Dio è vero? Sì vorrei leggere quello che Spurgeon scrisse a proposito questo versetto ci spiega perché il salmista desiderava la comunione con Dio vi trovava infatti protezione nel momento del pericolo poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità nel momento del bisogno quando gli altri mi abbandonano mi darà il rifugio migliore dal pericolo peggiore il padiglione reale era eretto nel centro dell'esercito protetto da tutti i prodi allo stesso modo il credente è nascosto in tranquillità nella sovranità divina che l'onipotenza ha giurato di mantenere il versetto successivo è il versetto 6 che io vorrei leggere già fin d'ora il mio capo si eleva e si eleva sui miei nemici che mi circondano io offrirò nel suo padiglione sacrifici con giubilo io canterò e salmeggerò all'eterno bene a questo punto il verso 6 e eventualmente concluderemo Federica con il verso 6 si apre già un momento di lode a un momento di giubilo di comunione direttamente alla presenza di Dio vogliamo concludere Federica con qualche ulteriore contributo e poi saluteremo i nostri amici si vorrei leggere un'ultima preziosa gemma di William Gurnall non si può annegare fin tanto che il capo è tenuto fuori dall'acqua e questo è ciò che fa la speranza per il cristiano nei momenti di pericolo quando queste cose cominceranno ad avvenire rialzatevi levate il capo perché la vostra redenzione è vicina sembra strano che Cristo esorti i discepoli a levare il capo mentre gli uomini verranno meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo sarà per loro un'aurora mentre per gli altri sarà un tramonto e l'inizio delle tenebre infatti sta per giungere l'ora del banchetto di ogni cristiano per il quale la speranza ha serbato l'appetito la vostra redenzione è vicina ci sono due cose che fanno chinare il capo il timore e la vergogna ma la speranza libera da entrambi il cuore del cristiano e gli proibisce quindi di dimostrare nel proprio aspetto scoraggiamento e depressione quindi la speranza ci aiuta ad alzare il nostro capo io leverò il mio capo dice Davide al cospetto dell'eterno con questa ultima espressione noi vogliamo salutarvi e darvi appuntamento alla prossima trasmissione del tesoro di Davide Salmo 27 seconda parte Dio vi benedica Dio vi benedica